buongiorno a tutti bentornati sul canale di gaming galaxy il vostro portale di intrattenimento build e guide dei tutti i vostri giochi preferiti o meglio di quelli che io seguo e che ovviamente seguite anche voi ricordatevi di iscrivervi al canale se non lo siete già e di attivare la campanella invece se lo siete già per rimanere sempre aggiornati su tutti i nostri video ora secondo video dedicato alla latron come si affronta e facciamo anche un recap del video precedente che era più per principianti invece questo è un po più esperti entriamo nel vivo incominciamo iniziamo ovviamente parlando del cibo e degli oggetti da portarsi dietro quindi un recap del video precedente vedete qui a schermo ora la descrizione quindi tutta la lista degli oggetti da portarsi dietro è stata leggermente modificata da quella precedente è stata in effetti aggiunto la pinna sgombro coltello io sfortunatamente sono un balestrere e mi dimentico sempre che tutte le armi da corpo a corpo devono essere affilate per affilate bisogna per forza utilizzare la pinna sgombro coltello questo perché con un tic viene affilata la lama se no se vi fermate anche per due secondi la latron v shotta e ggvp per tutti per quanto riguarda in cibo invece non è cambiato nulla si mangia per salvaguardia si mangia per assicurazione se non avete entrambe le cose si mangia per sangue freddo queste sono le cose che vi mantengono in vita o anche se vi fanno cartare vi danno la possibilità di avere una o due trance in più di ovviamente gioco contro la latron bene passato questo passiamo invece alle cose un pochino più fondamentali partiamo dalle build bisogna andare di danno elementale in realtà non è vero perché il nostro bellissimo amico angvata hanno fatto una latron in due minuti e 35 lo trovate sul suo canale angvata 11 anche se io lo sponsorizzo in realtà non ci conosciamo ma è da il maestro delle balestre per me e se andate a vederlo con quattro balestre e snipe cannon e le piercing 1 uccidono una latron in due minuti e 30 senza neanche fargli fare un esplosione ma se voi non siete dei fenomeni a giocare ma siete persone normali come me bisogna andare col danno elementale gli healer non servono assolutamente un cazzo se si fanno in una persona il mostro avrà 40.000 di vita se si fa in due avrà circa 80k di vita se si fa in quattro avrà 120k di vita ovviamente è molto meglio farselo o in solo o in un team da quattro il team da due dovete essere veramente molto bravi per poterlo fare da quattro avete un pochino più di gioco tralascendo questo che cosa bisogna portarsi dietro nella build di fondamentale sicuramente pasto veloce al 3 può esservi molto utile perché vi curate istantaneamente e quindi essendo il danno della latron molto ingente anche con la propria build quindi con la propria armatura comunque un pasto veloce al 3 può essere sempre utile quindi sacrificate qualcosina nella vostra build resistenza drag oltre o potete comunque avere una resistenza qualsiasi elementale che quindi non vi fa sciottare direttamente è utile resistenza al drago 3 perché normalmente sono è proprio con quelle mosse mosse drago che la latron vi sciotta considerando che normalmente con il drago esplode quindi fa le esplosioni a o e attorno a sé e di conseguenza normalmente quelle vi butta per terra lui sale su di voi e vi esplode con questa potete evitare di morire malamente bonus a salute altre e ovviamente per ovvi motivi essendo build elementali dovete mettervi attacco drago attacco ghiaccio o attacco fuoco al massimo nella build quindi con i gioielli o direttamente con l'armatura questo è la base per entrare a fare una latron in tutta sicurezza ovviamente vanno benissimo qualsiasi build con cui vi trovate bene io vi sto dicendo le le abilità fondamentali o meglio le abilità più utili che possono essere utilizzate nella vostra build contro la latron stesso passiamo ora a tutto quello che fa la la latron e come fermarlo iniziamo con i colpi sussultanti quindi tutti i colpi che voi potete tirargli per sbatterlo per terra ci sono due scuole di pensiero la prima è quando è possibile aggrapparsi alla sua faccia girarlo verso uno dei quattro picchi che si trovano al bordo della mappa della latron e lanciarcelo contro cosa molto difficile per due motivi il primo la latron slitta quindi quando voi lo lanciate dritto in realtà non va sempre dritto e la seconda cosa non è detto che voi possiate girarlo verso uno di quei picchi e di conseguenza la latron non cadrà per terra la seconda cosa invece che è un po più facile è sbatterlo per terra quando in aria molte volte la latron volerà utilizzando una mossa ghiaccio quindi una mossa che si alzerà in volo ok farà una fiammata per terra di ghiaccio ok che è strano dire fiammata di ghiaccio fa una fiammata di ghiaccio comunque voi potrete aggrapparvi al alla sua testa e scagliagli contro direttamente il colpo sussultante quindi con i baccelli questo farà sì che il drago calerà a picco per terra e si schianterà a terra non solo prendendo danno ma dando via anche a voi uno spot di danni gratuiti totalmente per stagherare ovviamente il l'alatron in volo bisognerà lanciargli dei baccelli quindi dei pod quando lui sta proprio facendo la mossa del gelo e quindi aspettare fa la si alza in volo fa la mossa del gelo si stagherà un attimino l'alatron gli si attacca la testa e lo si lancia per terra questa è la diciamo la mossa più la mossa migliore che potete utilizzare per lanciare per terra il mostro passiamo ad altro per quanto riguarda i flash pod o i baccelli lampo come si usano se non si usano allora prima di tutto quando il mostro è arrabbiato non funzionano quindi funzionano solo ed esclusivamente quando il mostro non è arrabbiato e per poterli utilizzare dovete lanciare il pod quindi il baccello lampo sotto le gambe posteriori di quando l'alatron è in volo se non lo lanciate lì il mostro rimarrà in volo funziona soltanto una volta quindi il mostro inizia a volare lanciate per la prima volta il pod il mostro cadrà per terra e a quel punto avrete il momento in cui potrete picchiarlo la seconda volta che lo userete il mostro non cadrà a terra ma rimarrà in volo accecato comunque la terza volta invece proprio non funzionerà parliamo ora delle corna come potete vedere l'alatron ha due cornona in testa quelle corna servono per in pratica fargli cambiare l'elemento all'alatron ora noi sappiamo tutti che il cambio dell'elemento è normalmente seguito o meglio anticipato dalla sua esplosione quindi dalla sua mossa finale in cui normalmente la gente carta e di conseguenza noi per evitare che lui cambi elemento semplicemente dovremmo rompergli le corna ora il primo corno è facilmente rompibile ci vogliono i primi cinque minuti di partita neanche per rompergli il primo corno al secondo corno invece se non siete un team ben bilanciato e soprattutto non lo colpite in testa bisognerà aspettare quasi la fine della partita perché lui perché a lui gli si rompa il secondo corno quindi normalmente già rompendogli un corno lui non farà un cambio di di elemento rompendogli entrambi non ne farà proprio e di conseguenza avrete un elemento solo principale dell'alatron e potrete fargli il danno che ovviamente serve direttamente a lui senza incorrere in cambi vari ed eventuali che potrebbe fare quindi può essere un'idea alla vostra di poter entrare magari con dei martelli non si è visto sinceramente ancora molte molte build di martelli o comunque di armi che possono spaccargli facilmente le corna sfortunatamente non si possono entrare neanche con le balestrine e sticky perché ce ne sono veramente ce ne per distruggerlo e di conseguenza non potendo tornare a casa non possiamo neanche ricaricare noi balestreri quindi ggw più per tutti sappiate che le corna comunque devono essere rotte fondamentali soprattutto quando si lancia il mostro per terra andare tutti sulla faccia il più possibile almeno o almeno quelli che hanno le armi con la possibilità più alta di rompergli le cose adesso invece passiamo al cruccio di questo bellissimo alatron quindi la sua esplosione che se ne dica l'esplosione diciamo che ha due step fondamentali o meglio in realtà non ne ha tanti svariate gradazioni ma le possiamo racchiudere in due step il primo è si fa abbastanza danno elementale e la nuova non farà quasi nulla di danno quindi basterà una mega pozione per sopravvivere o una qualsiasi altra cura che voi abbiate dietro quindi mega pozioni linfe vitale polvere di vita carne a stera bengala guaritore funghi funghi attivare eventuali qualsiasi cosa voi vi portiate dietro per curarvi se fate abbastanza danno elementale vi basterà quello senza bengala a terra e senza riunirvi per sopravvivere se volete sopravvivere sicuramente più facilmente alla nuova perché non sapete quanti danni elementali gli fate ovviamente potrete riunirvi tutti assieme mettere giù uno due bengala guaritori e quando lui inizia a farvi del danno con la sua esplosione curarvi semplicemente sopravvivere senza alcun problema ovviamente se non si fa abbastanza danno elementale sappiate che vi sciotta non c'è modo alcuno per fermarlo come ultimo consiglio e questo è spassionatissimo sappiate che tutte le combo delle latron sono micidiali anche perché possiede il suo set provato sulla mia pelle perché io ho entrambi set alfa e beta con provati varie eventuali armi comprensivi di balestre inset glaive dual blade sns scegliete voi un'arma le ho provate praticamente tutte e se si hanno difese negative elementali sul set sappiate che probabilmente morirete per il semplice fatto che qualsiasi danno che vi farà la latron sarà un danno spropositato anche avere le difese con il 40 per cento di difesa elementale e fidatevi ho una build con il 42 per cento con tutti gli elementi al 42 per cento di difesa elementare e 1200 di difesa fisica comunque vi farà abbastanza danno non con una mossa ma con due per sciottarvi quindi consiglio spassionato cercate di avere delle build che siano più portate al tank piuttosto che al danno tanto di tempo ne avete quanto cazzo ne volete per ucciderlo meglio che voi lo uccidiate che lo uccida voi con una sola mossa bene con questo io ho finito il video spero di esservi stato utile avete avuto a schermo tutte le varie informazioni ringrazio sentitamente il carissimo giocatore comb che tra l'altro lo state vedendo nel video è quello che sta combattendo l'alatreon che mi ha mandato il suo filmato quando l'ha fatto in solo io non ci sono riuscito in solo lui è molto più bravo di me e soprattutto con lui ho fatto questo video in cui ci siamo messi a confronto e abbiamo parlato dell'alatreon per tirare giù tutta questa lista di informazioni che possono esservi utili per ucciderlo più facilmente bene con questo è tutto noi ci vediamo con il prossimo video gg a tutti quanti e buona caccia